Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in un nuovo video di The Sims 4 Il video di oggi in realtà non fa parte di nessuna serie che sto attualmente portando sul canale Ma si tratta di un video un po' diverso dal solito Così, tanto per cambiare Perché avevo voglia di farvi vedere, condividere con voi qualcosa delle mie famiglie personali Non sarà in realtà un episodio stile current household Ma più che altro mi voglio concentrare in particolare su un aspetto di una delle mie famiglie personali Ovvero la gestione di una clinica veterinaria Infatti con una delle mie famiglie ho acquistato ormai già da tempo una clinica E un membro di questa famiglia, ovvero questa semina qui che si chiama Anna Kibo Qualcuno di voi probabilmente la conosce già Per chi non la conoscesse, eccola qui la nostra Anna che ormai è diventata un'adulta Lei ha avuto sempre il sogno di fare la veterinaria E infatti adesso lo è Ha acquistato questa clinica Che ormai sta andando anche piuttosto bene Quindi mi piaceva l'idea di condividere con voi il mio metodo di gestione e di conduzione di questa clinica Magari posso anche darvi alcuni consigli o suggerimenti che vi torneranno utili Che magari non sapevate Magari li scoprite in questo modo Allora intanto vi mostro la mia clinica veterinaria Eccola qui, non è grandissima Premetto che non l'ho costruita io partendo da zero Ma a suo tempo scaricai una clinica molto piccola Basic proprio dalla galleria E poi con il tempo l'ho ingrandita Ci ho aggiunto anche la parte del giardino che non c'era E anche l'interno comunque ho aggiunto diversi locali L'ho completamente riarredata Quindi diciamo che non l'ho costruita io da zero Ma è praticamente una clinica molto molto diversa Rispetto a quella che avevo scaricato Ormai è mia in un certo senso Vi faccio fare un rapido home tour di questa clinica E se vi piace la trovate già in galleria Quindi andate al mio ID che trovate sotto nell'info box in descrizione E la potete scaricare Dunque questo è l'esterno C'è molta neve come vedete Perché siamo capitati in pieno inverno Generalmente c'è un bel praticello stile inglese Comunque è molto semplice il giardino L'ho pensato più che altro come un'area di divertimento per gli animali Quindi nel frattempo che aspettano di essere visitati I padroni possono portarli qua un po' a giocare A divertirsi e a distrarsi Ci sono giusto i giochini essenziali E qua c'è una bella panchina sotto quest'albero Che è solitamente un tè in fiore Però adesso è un po' rinsecchito Quindi non è proprio bellissimo Però vi assicuro che se ci tornate in primavera Fa il suo effetto Poi entriamo dentro la clinica adesso Eccoci qua davanti alla porta di entrata Come vedete sulla destra c'è la casetta Della posta a forma di gatto Che adoro che ve lo dico a fare Si entra con questa porta scorrevole Che mi piace un sacco anche perché è avvetrata E quindi si vede l'interno E entrando si arriva in quella che è la sala d'aspetto Piccolina ma la trovo davvero molto accogliente C'è questo bel divano qui E da questa parte invece ci sono due poltroncine Qui c'è un tavolinetto In cui si possono trovare delle riviste Tanto uno che attende si mette a leggere Come proprio nelle sale d'aspetto Degli ambulatori dei medici E poi qui appesi alle pareti Ho messo diversi poster Tipo da questa parte l'elenco delle principali razze dei gatti E dall'altra parte dei cani Poi volantini che informano di possibili adozioni di animali E spostandoci invece qui sulla destra Qui c'è il bagno che è il bagno pubblico Quello che possono usare tranquillamente i pazienti O meglio i padroni dei pazienti ovviamente Perché cani e gatti fanno i loro bisogni in altro modo E bagnetto ovviamente semplicissimo C'è il water, il lavandino, il sapone E la carta per asciugarsi le mani Senza grandi pretese E poi qui ho messo una piccola cucinetta Ovviamente pensata per Anna e per i suoi collaboratori Quindi per il personale Molto carina, piccolina Mi piace davvero tanto C'è questo tavolinetto con tre sedie Un quadro per dare un po' di atmosfera E qui da questa parte c'è giusto un piccolo frigo La macchinetta del caffè Il microonde Lì le bustine con le tisane Per il tè e il lavandino Proprio giusto per fare qualche pausa Pranzo rapida E un caffè ogni tanto Che direi dopo aver lavorato abbastanza ci sta Questo è il resto della sala d'aspetto Vedete che qui sulla destra Ho messo la macchinetta In cui le persone arrivano E possono comprare alcuni prodotti Alcuni dolcetti particolari Qui ci sono delle altre riviste E qui c'è questo banco In cui potersi prenotare E aspettare così la visita Poi qui vedete che c'è una porta Ed è la prima sala visite Eccola qua È abbastanza piccolina Però direi che c'è tutto Qui c'è praticamente il tavolo Dove poter visitare gli animali Un lavandino Che ovviamente può sempre servire Qui per vedere l'RX E qui c'è le cose essenziali Quindi dei panni Tutte eventuali biscottini Medicine Iniezioni Tutte le cose che servono per la cura E per le visite Poi andando in questo corridoietto Vedete che intanto ho messo decorazioni Ovviamente a tema animali Qui ho messo una cucetta Con una ciotolina di cibo Così loro ganni e gatti Possono tranquillamente mangiucchiare Mangiucchiare se hanno fame Qui c'è un'altra sala visita Che è praticamente identica alla precedente Ha quasi la stessa grandezza Le stesse cose Un po' diversa la disposizione Però è abbastanza simile a quell'altra Poi di qua invece c'è la sala operatoria In cui c'è appunto il macchinario Per poter operare Fare sterilizzazioni di animali Qui sempre carrello con tutto l'occorrente Le lastre E poi qui invece sulla sinistra Vedete che c'è una scritta Mi sono immaginata che c'è scritto Tipo riservato al personale Perché è tipo la sala medicina Quindi abbiamo un computer Un calendario Le cartelline in cui Tenere proprio le cartelle cliniche Degli animali Libri per poter studiare E qui c'è il macchinario Che permette di produrre I vari dolcetti E tutti i vari medicamenti Qui c'è l'armadietto In cui immagino che Il personale ripone I propri vestiti Le proprie borse E si cambia E qui c'è il bagno Che però è privato Insomma del personale Bagnetto piccino Infatti questa porta L'ho proprio bloccata Così almeno La gente non ci entra dentro Ok adesso pensavo di giocare Una giornata qui Nella clinica Per farvi un po' Vedere come la gestisco Intanto vi faccio Un attimo Vedere a che punto sta La clinica L'ho chiamata Animals Friends E attualmente Ha tre stelle Ma spero di riuscire Ad arrivare A farla diventare A cinque stelle Attualmente Ho ben due dipendenti Una è Supria E l'altro è Dominic Supria ha praticamente Bravissima Perché vedete che ha il massimo In tutte le abilità Che servono Perché le ho fatto fare Un sacco di corsi Di formazione Quindi alla fine È diventata molto brava E sta anche A livello massimo Di promozione Per questo lavoro Mentre Dominic Sta un po' Più indietro Anche perché L'ho assunto Più tardi Quindi sta Si sta ancora Formando Vedete Solo tre livelli Per ogni abilità E ogni tanto Infatti Anna Li dice Insomma Li fa frequentare I corsi di formazione Per farlo diventare Sempre più bravo Infatti Io ho diviso I compiti In questo modo La mia sim Ovvero Anna E subria Visitano proprio Gli animali Li curano Mentre Dominic Per il momento Sta imparando Queste cose Quindi Si occupa di compiti Più secondari Come ad esempio Pulire la clinica O Produrre i dolcetti E medicinali Che servono Al macchinario Per il momento Ancora non tocca I pazienti Ma quando diventerà Più bravo Inizierà a poter Visitare E curare Anche lui Ho intenzione Poi di sbloccare Anche il terzo posto Per il veterinario Però lo farò Quando Dominic Diventa un po' più bravo Quando inizierà A poter curare Cani e gatti A quel punto Assumerò Un nuovo veterinario Che poi dovrò formare Eccetera Poi Altre cose Ricarico di prezzo Ho messo 85% Che non è altissimo Però Mi sembra un prezzo onesto Per una clinica A tre stelle Inoltre la qualità Delle forniture È molto elevata Quindi Ci tengo che sia una clinica Che abbia una certa qualità Però Non sia neanche troppo eccessiva Insomma Mi piace l'idea Che un po' tutti Se la possono permettere Detto questo Direi che è quasi ora Di aprire Sono le sette di mattina Anna Quando viene a lavorare In clinica Viene sempre presto E la prima cosa Che fa Ancora prima di aprire Al pubblico E chiamare Quindi i suoi dipendenti È venire qui E farsi Un bel caffettino Perché ci sta tutto Per iniziare la giornata Quindi facciamole bere Il caffè In santa pace E poi apriamo Quindi arriveranno I nostri dipendenti E poi pian piano Anche i clienti Io devo dire Che non ho messo Nessun tipo di pubblicità Perché comunque Viene già un sacco di gente Quindi Non mi serve Anzi Se ne viene troppa Ecco Wow Subito Iniziamo bene Si è rotta la macchinetta Del caffè Ma va bene Pare che comunque Stia andando Perfetto Il caffè è quasi pronto E Direi Sì Che possiamo Anche iniziare Ad aprire Sì sì Mettiamoci un attimo qua E intanto Apriamo La clinica veterinaria È aperta al pubblico Ok Adesso la prima cosa Che facciamo È cambiarci Ovviamente Perché non mi sembra Il caso Di stare Impermeabile Anche se fuori fa freddo Indossiamo la divisa La nostra divisa Del veterinario Guardate che carina L'ho impostata Sui toni Del verde acqua Mi piace un sacco E ecco qua Che arrivano I nostri dipendenti Ciao Marcus Sì Marcus Scusate Dominic Mi sono confusa E direi Lo salutiamo Perché Ci tengo Ad avere Un buon rapporto Con i miei dipendenti Quindi ogni tanto Ci chiacchiero Per sapere un po' Come vanno le cose Vedete che lui Già sta pulendo È veramente bravo Ma devo dire Che entrambi I miei dipendenti Sono bravi Non mi posso Assolutamente lamentare Quindi praticamente Chiacchiero un po' Con loro Oh intanto è arrivato Il primo cliente Paziente Chiacchiero con loro Alla fine della giornata Li lodo Se hanno lavorato bene O viceversa Li riprendo Se hanno lavorato male Perché solo così Le cose possono migliorare Intanto qua Abbiamo Due Pazienti che sono arrivati Non so cosa Gli è successo Noi comunque Direi No Il gattino Poverino Mi sa che è un pochino Spaventato Si è ficcato sotto Il divano Ma ci sta Insomma diciamo che Nessun animale è contento Di andare dal veterinario Di recente Shelby ha assunto Un aspetto un po' Malaticcio Potresti visitarla E certo Sono qui per questo E poi Penso che Supria Si occuperà Piano piano Degli altri Però ragazzi Io sapete che cosa faccio Quando vedo che Iniziano ad esserci Un po' troppi clienti Blocco L'ammissione Di nuovi clienti Così Prima finisco di fare Quelli che ci sono E poi magari Riapro la missione Perché se no Si crea troppa fila I clienti Attendono troppo E abbiamo delle recensioni Poi negative Quindi non vorrei Che accadesse questo Per cui Intanto iniziamo A visitare Shelby Appena questo paziente Si registra Chiudo un attimo Le ammissioni Così Meno stiamo tranquilli Oh è venuta fuori Dal divano Per fortuna Ok Non ammettiamo Intanto di questi Spero che se ne occupi Supria Non so dove è andata Non so perché Stanno correndo tutti Da quella parte Ma va bene Chissà che c'è di interessante Noi intanto Ci occupiamo Della piccola Shelby Che è tutto qui rosso È abbastanza calma Vedete non c'è a livello di stress Quindi è inutile Carmarla per il momento Ah vi faccio anche vedere Una cosa Ovvero che Anna Sta praticamente A livello massimo Ha massimizzato L'abilità di veterinaria Quindi fa Molto velocemente A scoprire La malattia dell'animale E a cularlo Quindi ottimo È risultato di anni E anni Di studi E di pratica Direi di iniziare Esaminiamo Misuriamo la temperatura Perché con tutto questo Rosso lampeggiante Temo che abbia anche Un po' Di febbre Guardate Praticamente Con un solo esame Ha già scoperto Tre cose Naso luminoso Zampe elevate Temperatura Alta Direi di esaminare Anche Il respiro E vediamo Se basta così Riesce già a capirlo Sì Ok La malattia che ha È organi Magmatizzati Oddio poverina Mi pare un brutto Una brutta brutta Malattia Vediamo un po' Se possiamo curarla Sì Con una semplice Iniezione Perché a volte Capita che invece Le cure vadano fatte Al tavolo operatorio Oh ecco qua Shelby anche Sta bene Vedete che abbiamo fatto Relativamente Presto Adesso La proprietaria Ci pagherà E quindi La prima visita L'abbiamo Terminata Ok Intanto Supria Vedete che sta guardando Sta visitando Quest'altro Gattino E quindi Direi che adesso Noi ci occupiamo Qua del terzo Vedete che Intanto è entrato Qualcuno A comprare Uno dei nostri Prodotti Quindi tra poco Toccherà fare Un riformimento Di nuovi dolcetti Beh a questo punto Direi che possa Mettere di nuovo I clienti Visto che gli altri Li abbiamo già smaltiti Ok Ne sta arrivando Un'altra E magari A Dominic Posso Gestirlo E vedete Quante cose Gli posso dire Di fare Vedete Al momento Come responsabilità Io gli ho detto Di non curare I pazienti Perché ancora Non è pronto Come vi avevo Già accennato prima Però intanto Oltre che pulire Potrebbe magari Produrre Alcuni dolcetti Il problema È che Non li può ancora Produrre tutti Come fa Anna Perché la sua abilità In veterinaria Non è ancora Molto alta E Quindi Visto i dolcetti Che può produrre Sono il toffio acquitrinoso La barretta più fredda Della zoto liquido Diciamo Sono dei dolcetti Che non mi piacciono Tanto Perché in realtà Fanno stare male Gli animali A me piace Produrre tipo Il dolcetto del benessere Quello della crescita Della decrescita Cose di questo tipo Però magari Gli posso chiedere Di produrre Per alcune cose utili Per il tavolo da visita Tipo Preparare un siero rilassante Di livello industriale Questo lo può fare Tranquillamente Ok Aspettiamo Che Ok La paziente Si è registrata Quindi direi Di iniziare subito La visita Di questo bel Cagnolone Ok Anna sta dando Appunto Le indicazioni Di produzione Dominic Vedete che ci va Bello tranquillo E noi possiamo fare Il resto Quindi adesso Andiamo a curare Anche questo bel cane Intanto sta arrivando Anche qualcun altro Se ne occuperà Supria Tanto Oppure In realtà No Se ne è occupata Lei Va bene E allora Io mi occuperò Di questo bel gattone Oggi praticamente Tutti i gatti Ci capitano Salutiamo il paziente Calorosamente Ok Vedete Intanto Gatti un occhio Settine saltellanti Mi sa che ha qualche parassita Allora è abbastanza calma Quindi direi Che possiamo ispezionare La pelle E il pelo In primis E poi magari Ascoltiamo un po' Il cuore Vediamo se riusciamo A capire Cosa Non credo sia troppo difficile Perché infatti Pulci Ok Mi sa che era abbastanza Intuibile Come avevo detto E per le vulci Credo proprio Che basterà Un bello spray Antiparassitario Oh Ecco qua Una bella spruzzata E torna tutta bella Pulita E in salute Non avrà più problemi E anche Susanna L'abbiamo curata Perfetto Vedete intanto Dominic Come si sta dando da fare Che appena si sporca qualcosa Lui pulisce Quindi come vi dicevo Non posso davvero Lamentarmi Per i miei Dipendenti Che anni è triste Perché vabbè Ha saltato una festività Ma non ci interessa Più di tanto A questo punto Ragazzi Direi di Chiudere Praticamente Qui con la clinica Visto che si è fatto Pomeriggio Inoltrato Stiamo qua Dalle 7 di mattina Un'ultima cosa Che faccio Di solito Alla fine del turno È appunto Lodare I miei dipendenti Se si sono comportati bene Direi di sì Entrambi Quindi lodiamo Il nostro Dominic E prima di Lasciarci Guardate lui Come è contento Questo aumenta L'amicizia Aumenta La voglia Lavorativa Quindi lodare I dipendenti È buona cosa Davvero Gradificante Sapere che il mio Maggiore impegno È stato notato Grazie Ok Prima di andare via Direi di pagare Per la formazione Così intanto Aumenta ancora di più Le sue abilità E tra poco Potrà iniziare A curare A curare anche Anche lui Ok Ok Adesso attendiamo Che Supria Finisca Di visitare E poi Direi che Chiudiamo Definitivamente La clinica Cioè Definitivamente Per oggi Lodiamo anche Supria Perché assolutamente Se lo merita Altro che Ok Tutti i pazienti Sono curati E soddisfatti Supria Sei davvero Un aiuto Insostituibile Meraviglioso Cerco di essere Un modello Come dipendente Il mio impegno Inizia a dare I suoi frutti Esattamente A questo punto Direi che Chiudiamo Proprio Così Supria E Dominic Possono tornarsi A casa E guardate un po' Oggi sono riuscita A guadagnare Un'altra mezza stellina Quindi sono arrivata A tre stelle e mezzo Qui ci dice L'orario di apertura Siamo un'eccellenza Per quanto riguarda Il servizio Possiamo un po' Migliorare L'atmosfera E la qualità Del servizio Ma sicuramente Nel corso del tempo Farò diventare Questa clinica Anche un po' Più grande Assumerò appunto Un altro veterinario Come vi ho detto Vedete che qui Dominic Sta salendo In queste abilità Perché gli ho pagato Il corso Perfetto Detto questo Prima di tornarcene A casa A chiudere Qua l'episodio Io Prima di andare via Dalla clinica Solitamente Guardo un po' Com'è La macchinetta Cioè se sei rifornita O meno E Vedete che adesso Ci sono dentro Due dolcetti Della decrescita E due Della crescita Quindi la nostra Anna Si metterà qui E finirà Di produrre I dolcetti Che mancano In particolare Vorrei creare Anche un dolcetto Dell'Ambrosia Che è il dolcetto Che fa risorgere Gli animali Che sono morti Non so se Lo conoscete Però si sblocca La capacità di poterlo Produrre A livello 10 Dell'abilità Di veterinaria Quindi massimizzate L'abilità Potete a quel punto Produrre il dolcetto Dell'Ambrosia E Se incontrate Il fantasma Del vostro animaletto Che purtroppo È passato A miglior vita E gli date Il dolcetto Dell'Ambrosia Quello torna in vita Io l'ho già fatto Nella mia famiglia personale C'era una gatta Eccola qui Hop Che è morta Un po' di tempo fa Ma grazie a questo dolcetto Ho potuto riportarla In vita Quindi sono stata Molto contenta Di questa cosa Perché mi era Dispiaciuto troppo Della sua morte Poverina Ok Dolcetto Finito Una volta che abbiamo Prodotto i dolcetti Li possiamo Semplicemente Trasportare Dal nostro inventario Qua Alla macchinetta E vedete Che è stata Tutta bella Che rifornita Quindi ragazzi Niente Direi che ci possiamo Fermare qui Con questo video Spero vi sia piaciuto Nonostante Non sia stato Un classico Gameplay Però secondo me Ogni tanto Questi video Un po' diversi Particolari Ci stanno Per oggi è tutto E mettete il like Al video Se vi è piaciuto Fatemi sapere sotto Nei commenti Che cosa Ne pensate Se vi è piaciuta La clinica Come Anna La sta gestendo Mettete mi piace Anche la mia pagina Facebook E Instagram Per rimanere sempre aggiornati Noi ci rivediamo Presto nei prossimi video Ciao Ciao